Musica Sicignano Lago Negro, un questionario per testare l'utenza del servizio ferroviario. Intanto dal Ministero ha annunciato la dismissione della tratta. Sassano, confermata la condanna per l'uomo che investì e uccise Elena Pavel. Maturità 2016, Umberto Eco, le donne, l'immigrazione e PIL, queste le tracce della prima prova scritta. Monte San Giacomo, pioggia di avvisi ai cittadini, nuove disposizioni per acqua potabile, parcheggi e animali vaganti. Sassano, ieri sera presso Palazzo Babbino, spettacolo conclusivo del corso di teatro dell'Istituto Arti Sceniche Vallo di Diano. Buongiorno, ben trovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura ci occupiamo ampiamente della Sicignano Lago Negro, perché tre studenti del Politecnico di Milano, nell'ambito delle loro attività didattiche, hanno realizzato un questionario presente sul web, sottoponendolo all'attenzione dei cittadini della parte sud della Campania e finalizzato a capire il grado di interesse e l'utenza che la ferrovia sicignano Lago Negro potrebbe servire. È uno studio avviato per caso e che ha riscosso tantissimo successo tra gli abitanti del territorio che hanno mostrato un interesse che per i giovani non era pronosticabile. Vediamo. La ferrovia abbandonata a Sicignano Lago Negro fa ancora parlare di sé grazie a tre studenti del Politecnico di Milano che se ne stanno occupando per un laboratorio didattico a cui partecipano. Lo scopo primario del lavoro è stabilire che tipo di utenza privilegierebbe il modo di trasporto ferroviario e quindi sottopongono un questionario a tutti i residenti della zona interessata e delle zone vicine, ma anche ai visitatori interessati al Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, considerando complessivamente pendolari e turisti. I tre ragazzi cercano di identificare con precisione quali sono i soggetti maggiormente interessati alla riattivazione della tratta ferrata ed in che condizioni questi sono disposti a passare dal tipo di trasporto che hanno attualmente a disposizione auto o autobus al treno. Essendo uno studio preliminare e didattico, sono prese in considerazione solo le fermate in cui si presenta il maggior numero di utenti che al momento si spostano sul percorso Napoli-Sicignano e Sicignano-Lago Negro. Questo per compiere uno studio meno dispersivo e soprattutto per considerare lo scenario economicamente più vantaggioso dal punto di vista del gestore del territorio. Non è detto però che in seguito non possano essere ipotizzate stazioni intermedie o tratte diverse. Già lo scorso anno un gruppo di studenti universitari del Politecnico di Milano è stato a Padula, dedicando quindi attenzione al territorio valdianese per studiarne le peculiarità storiche e architettoniche, realizzare progetti in grado di fondere la valorizzazione del patrimonio con i processi di trasformazione in atto nell'ambito di un progetto fortemente voluto dall'architetto Cassandra Cozza in collaborazione con la comunità montana valodidiano. Questa volta dall'Ateneo milanese ad occuparsi del territorio sono Giacomo Marcheselli, Gabriele Grigolo e Serio Angelo Maria Agresti, iscritti al corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Trasporti e delle Infrastrutture. Con l'aiuto di chi compila il questionario sperano di acquisire dati sufficienti per impostare una simulazione attendibile. Elogiamo l'impegno di questi tre studenti che forniscono uno spunto alla discussione riguardante la ferrovia per la quale purtroppo al momento non è previsto nessun progetto di riapertura. E restiamo in tema perché il quotidiano del mezzogiorno di questa mattina in edicola non sembra lasciare spazio a speranze invece. Lo studio dei tre giovani del Politecnico di Milano potrebbe infatti risultare tardivo e inutile anche se visto l'interesse mostrato poteva davvero risultare importante per una eventuale riapertura della tratta. Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti però sembra non ci siano margini di discussione e la tratta sarà definitivamente chiusa. Per l'autore dell'articolo presente sul quotidiano del mezzogiorno Pino Perciante la responsabilità sarebbe da addebitare anche allo scarso interesse della regione Campania. Sembra sia arrivata la decisione ufficiale sulla tratta ferrata sicignano Lago Negro. L'articolo pubblicato questa mattina dal quotidiano del mezzogiorno non sembra lasciare spazio ad ulteriori speranze. Sembra infatti che il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti abbia deciso di avviare l'iter di dismissione della ferrovia sicignano Lago Negro chiusa nel 1987 per effettuare lavori di elettrificazione realizzati solo su una prima parte del tratto e poi bloccati lasciando così la ferrovia in sospeso per quasi 30 anni. L'autore dell'articolo ripercorre la storia di questa ferrovia i cui lavori di realizzazione partirono nella seconda metà dell'Ottocento con il tratto fino a Sala Consilina completato e inaugurato il 30 dicembre del 1886. Si dovrà attendere il 1892 per vedere interamente realizzata la tratta fino a Lago Negro. Un'opera che metteva in collegamento tantissimi paesi con le grandi città e che è stata molto utilizzata durante le guerre mondiali e nella fase post-bellica. Tante le storie che hanno attraversato e interessato questa tratta ferrata e tante le battaglie che soprattutto negli ultimi anni sono state intraprese per cercare di ottenerne la riattivazione. Il titolare del digastero di infrastrutture e trasporti sembra però abbia ritenuto troppo onerose le spese per la sua riattivazione. L'articolo pubblicato sul quotidiano del Mezzogiorno a firma di Pino Perciante infatti parla di una spesa preventiva di circa 370 milioni che per il ministro del Rio l'Italia non può permettersi per offrire il servizio a questa parte del paese. Insomma potrebbe a breve giungere a termine la lunga telenovela che ha riguardato la tratta ferrata sicignano Lago Negro. Un periodo davvero strano per la ferrovia che era spesso al centro della discussione visto il forte interesse mostrato dalla regione Basilicata per ottenerne la riapertura. Un interesse e un'attenzione che invece dalla Campania non è arrivata nonostante gran parte della tratta ricada proprio in questa regione. Eppure il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca pochi mesi prima della sua elezione nel rispondere ad un cittadino in un'intervista radio aveva sottolineato come la riapertura della tratta potesse essere un progetto non soltanto fattibile ma anche che andava realizzato per far sviluppare le aree interne. Sembra ancora più strano che un territorio che è stato inserito come area pilota per la strategia delle aree interne e quindi meritevole di ricevere fondi destinati allo sviluppo venga e invece definitivamente privato della possibilità di avere il trasporto su ferro. Senza considerare che si è sempre parlato di sviluppo del territorio potenziando i settori del turismo e dell'agricoltura unici settori su cui puntare. Ancora oggi però non è stato ben chiarito da chi chiede di puntare su turismo e agricoltura come pensano di far arrivare i turisti nel Vallo di Diano visti i ridotti collegamenti e di esportare le eventuali produzioni agricole qualora davvero si possa pensare di realizzare un tale progetto di crescita e sviluppo. Un brutto colpo il commento di Giuseppe Verga membro del Comitato Proferrovia per chi in questi anni si è battuto nel tentativo di far tornare in esercizio l'antica tratta che potrebbe portare ad avere un ruolo strategico per il rilancio del turismo nel Vallo di Diano. L'articolo conclude evidenziando come la decisione del Ministro possa non essere solo frutto delle spese eccessive ma anche per il disinteresse sinora mostrato dalla regione Campania anche perché il Ministro non può conoscere le esigenze di questa parte del paese. E passiamo ora alla cronaca questa mattina le prime luci dell'alba a Polla i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Sala Consilina hanno tratto in arresto un 28enne originario di Polla ritenuto responsabile di resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato sorpreso alla guida di un'autovettura station wagon di colore marrone chiaro e alla vista dei militari che gli avevano intimato l'alt si è dato alla fuga ponendo in essere una condotta di guida pericolosa protratta anche all'interno del centro abitato del comune di Polla prima di essere bloccato al termine di un inseguimento protrattosi per circa due chilometri. Il 28enne una volta fermato ha comunque tentato nuovamente la fuga spintonando e colpendo gli operanti allo scopo di sottrarsi ai controlli e che il ragazzo è stato prontamente bloccato e tratto in arresto dai militari. Andiamo a Sassano sempre con la cronaca è stato confermato in appello la sentenza di condanna a 5 anni e 10 mesi per Enrico Salluzzi l'uomo che investì e uccise la 27enne Carmen Elena Pavel nel maggio del 2015. Nei giorni scorsi si è tenuto il processo d'appello a carico di Enrico Salluzzi il 36enne accusato di aver investito e ucciso nel maggio del 2015 Carmen Elena Pavel mentre andava a lavoro in bici. In primo guerrado l'uomo era stato condannato e i giudici della corte d'appello hanno confermato la condanna a 5 anni e 10 mesi per l'uomo accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini dopo l'incidente Salluzzi stava rientrando a casa mentre la donna si stava recando a lavoro in bici quando si è edificato l'impatto fatale tra veicolo e bicicletta. I carabinieri rilevarono che Salluzzi era sotto effetto di alcol e droga e si era allontanato dal luogo dell'incidente dopo il terribile impatto senza prestare soccorso mentre l'avvocato difensore del 35enne ha sempre sostenuto che Salluzzi aveva parcheggiato più avanti e a piedi si sarebbe avvicinato al luogo dell'incidente verificando le condizioni della donna. Probabile che ora si cercherà di ribaltare la sentenza in Cassazione ma questo sarà possibile solo dopo aver letto le motivazioni della sentenza in corte d'appello. Lo scorso 17 dicembre il Tribunale di Lago Negro in primo grado ha condannato a dieci anni e quattro mesi di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici in primo grado il per omicidio colposo plurimo aggravato Gianni Pacello ritenuto responsabile della strage di Silla quando persero la vita quattro giovani tra cui il fratello minore nel settembre del 2014. Legali del giovane dopo la condanna e lette le motivazioni della sentenza hanno provveduto al ricorso in appello. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo primo dicembre. E andiamo avanti perché presso la compagnia Carabinieri di Sala Consilina è arrivato il nuovo comandante. Si tratta del tenente Davide Acquaviva, 27 anni ma ha già un curriculum di tutto rispetto con numeri che mettono in evidenza il suo impegno e la profonda dedizione al suo lavoro e naturalmente alla divisa e all'arma. Oltre operazioni effettuate in appena un anno e mezzo alla guida del nucleo operativo e radiomobile di Torre Annunziata. Il suo lavoro è stato notato anche dal ministro della difesa Roberta Pinotti che ha voluto attraverso il suo profilo Facebook congratularsi personalmente con il tenente Acquaviva e augurargli buon lavoro. A soli 27 anni il tenente Davide Acquaviva sarà il comandante dei Carabinieri più giovani di Italia nella sua carriera. Si legge numeri importanti tra cui 400 arresti e 700 denunci a piede libero per reati di camorra e di criminalità comune. È un percorso di studi eccellente. Fra tre giorni lascerà il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Torre Annunziata per assumere ufficialmente il comando della compagnia Carabinieri di Sala Consilina in provincia di Salerno e lavorare per la sicurezza di quasi 120 mila cittadini. Sulla sua divisa, conclude, sarà presente una stelletta rossa attribuita a coloro che ricoprono incarichi superiori al proprio grado. Davide è un servitore dello Stato di cui andare fieri e voglio fargli il mio personale in bocca al lupo per questa nuova sfida. Queste le parole pubblicate dal ministro. Andiamo avanti, cambiamo però argomento sui banchi. Oggi mezzo milione di studenti italiani per la prima prova di esame scritta. Le tracce di questa prima prova hanno sorpreso poco. Umberto Eco, il PIL ma anche l'immigrazione tra le proposte del ministro dell'istruzione. La tanta attesa si è conclusa questa mattina per circa mezzo milione di studenti italiani che hanno preso parte agli esami di maturità del 2016. Tanta era l'ansia per scoprire chi fosse l'autore scelto dal ministero e le tracce dei vari temi messaggi brevi proposti agli studenti. Come negli anni scorsi l'invio delle tracce della prova scritta è avvenuto attraverso il plico telematico, buste criptate, recapitate per via telematica alle scuole aperte soltanto questa mattina. Come sempre tanta scelta per i giovani maturandi. In dettaglio per l'analisi del testo è stato proposto un brano di Umberto Eco tratto sulla letteratura raccolta di saggi pubblicata nel 2002 e verte sulla funzione della letteratura. Il tema storico ha avuto come tema le donne e prende spunto dai brani della poetessa e partigiana Alba De Cespedes e Anna Banti l'autrice del romanzo Artemisia. Il concetto di confine e in particolare la citazione di Pietro Zanini, confini, muri reticolati, costruzione e superamento dei confini, le guerre per i confini è stato il tema scelto per l'attualità che rientra nel maco argomento dell'immigrazione che tutti si attendevano. Per il saggio breve quattro le tematiche proposte agli studenti. Il rapporto padre figlio in arte e letteratura con una poesia di Umberto Saba, un quadro di Giorgio De Chirico, il figlio prodigo, i testi di Franz Kafka e Federico Tozzi, crescita, sviluppo e progresso sociale e il PIL, misura di tutto e il titolo di quello economico in cui viene riportato un discorso di Robert Kennedy del 18 marzo del 1968. Il terzo saggio si incentra sul valore del paesaggio con brani di Desettis, Carandini, Sgarbi, Srinati e infine l'ultimo, l'uomo e l'avventura nello spazio. Il tema scientifico con una traccia che cita gli astronauti Guidoni e Cristoforetti nei loro viaggi in orbida intorno alla Terra. Questa sera alle 18.30 presso la sede legale del Gal Vallo di Diano a Padula in Viale Certosa si terrà l'assemblea dei soci della società. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno che saranno trattati nella seduta assembleare tra i quali anche il rinnovo delle cariche dell'intero consiglio di amministrazione e la nomina dei componenti del collegio sindacale. Tra gli altri argomenti in apertura di seduta si parlerà di fondi del piano di sviluppo rurale 2014-2020 e del bando pubblico selezione gruppi di azione locale e strategie di sviluppo locale. Andiamo ora a Monte San Giacomo perché per la comunità arrivano nuove regole finalizzate ad un miglioramento della vita comune di tutti i cittadini e del rispetto reciproco. l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Accetta ha infatti reso pubblici due avvisi e un'ordinanza che riguardano animali vaganti, parcheggio selvaggio e acqua potabile. Subito al lavoro l'amministrazione comunale di Monte San Giacomo che si appresta ad organizzare la stagione estiva ma anche a intervenire su uno dei più frequenti problemi registratisi soprattutto negli ultimi anni. A pochi giorni dall'insediamento sono già stati resi pubblici alcuni avvisi alla cittadinanza finalizzati ad un corretto uso della cosa pubblica e quindi di ciò che è patrimonio di tutti ma anche a tutelarne l'incolumetà. In primis si parla del fenomeno degli animali vaganti che troppo spesso ha messo a rischio proprio la sicurezza degli abitanti. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Accetta ha annunciato di aver conferito l'incarico attraverso l'asla di una ditta specializzata per la cattura degli animali vaganti che nei mesi scorsi ha provocato danni ingenti alle culture oltre che alla montagna mettendo spesso a serio rischio anche l'incolumità dei cittadini. Due i provvedimenti che saranno adottati e che sono distinti in interventi d'urgenza e interventi programmati. Vengono considerati interventi d'urgenza i casi in cui l'animale vagante raggiunge il centro abitato costituendo un serio pericolo per l'incolumità pubblica. Si parla invece di intervento programmato nei casi in cui gli animali rischiano di provocare danni alle culture. Per entrambi i casi i cittadini potranno rivolgersi al comando dei vigili urbani oppure contattando direttamente il sindaco Raffaele Accetta o un componente dell'amministrazione comunale, in particolare il vice sindaco Angela Dalto o l'assessore Antonio Caporrino. Per quanto riguarda gli avvisi legati alla stagione estiva e non solo, due sono gli argomenti oggetto di avviso pubblico. In primis la gestione dell'acqua pubblica. Sul sito del comune di Monte San Giacomo infatti il sindaco Raffaele Accetta è ricorso ad emettere ordinanza sindacale che fa di vieto assoluto ai cittadini di utilizzare per tutto il periodo estivo l'acqua potabile per usi diversi da quello domestico, quali ad esempio lavaggio di automezzi, attrezzi vari, irrigazione di orti e giardini. A seguito segnalazione ricevuta di persone che avrebbero utilizzato l'acqua potabile per scopi diversi, si è quindi ritenuto opportuno emettere apposito ordinanza. Inoltre l'arrivo della stagione calda provoca come di consueto una riduzione della portata idrica dovuta, oltre che al rischio siccità, anche all'aumento della popolazione residente. Tutte motivazioni che rendono necessaria una maggiore attenzione nell'utilizzo dell'acqua. Anche la viabilità è soggetta ad una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale di Monte San Giacomo che ha pubblicato un avviso in cui si annuncia un controllo più intenso sul territorio in merito al parcheggio selvaggio e alla violazione del codice della strada in generale. L'amministrazione comunale invita i cittadini a parcheggiare le autovetture nelle aree specificatamente contrassegnate anche al fine di garantire un maggiore decoro al paese. Visto il ridottissimo numero di vigili urbani di cui è dotato il comune che è costituito da una sola unità, l'amministrazione chiede la collaborazione dei cittadini. In questa prima fase, si legge nell'avviso, sarà nostra cura rieducare gli automobilisti ad un utilizzo più corretto degli spazi attraverso preavvisi informali. In caso di mancata collaborazione, si legge ancora, saremo costretti a malincuore a combinare l'anno sanzione prevista dal codice della strada. Certi della collaborazione del senso civico che ha sempre caratterizzato la nostra comunità, conclude nell'avviso il sindaco e l'amministrazione, ricordiamo che l'ordine e la sicurezza del paese è innanzitutto patrimonio dei cittadini e dell'intera collettività. Andiamo a Polla, oltre 60 mila metri quadri divisi in dieci lotti da assegnare all'interno dell'area industriale di Polla per un valore complessivo di 2 milioni di euro circa. Entro il 28 giugno bisogna presentare le domande. Circa 2 milioni di euro e più precisamente 1 milione 868 mila 220 euro il valore complessivo dei dieci lotti dell'area PIP che il comune di Polla ha deciso di assegnare per nuovi insediamenti produttivi nell'area industriale in località Sant'Antuono con un'area interessata di circa 62 mila 270 metri quadri. Come riporta il BAMDO, sette aree su dieci saranno a destinazione d'uso produttiva industriale, due di destinazione d'uso artigianale e una per la destinazione d'uso servizi generali. Dieci lotti di grandezza differente dal più piccolo di 4 mila 338 metri gradi al più grande di circa 7 mila metri quadri per un valore in termini puramente economici che variano dai 131 mila ai 207 mila euro. Come si legge nel BAMDO e in particolare nell'articolo 7 del disciplinare determinazione dei prezzi di cessione dei lotti, il corrispettivo per la cessione delle aree in proprietà è di 30 euro al metro quadro così come approvato dalla deliberazione di giunta municipale numero 42 dell'8 aprile 2016, mentre per i lotti già assegnati ci si atterrà al prezzo comunicato in sede di assegnazione. La domanda di partecipazione per l'assegnazione dei lotti in area PIP, completa di tutta la documentazione richiesta ed espressamente indicata nel BAMDO, dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Cipolla entro le ore 12 del prossimo 28 giugno. Andiamo ora a Padula, mancano pochi giorni al termine della nuova campagna di screening promossa dal centro analisi biochimica di Padula a Scalo fino al 30 giugno. Biochimica propone l'effettuazione di una serie di analisi cliniche a tariffa agevolata per rilevare la propensione dei soggetti a contrarre la sindrome metabolica, una sindrome che può essere principale causa di patologie come ipertensione, problemi cardiovascolari e diabete, oltre che patologie legate anche ad esempio ai reni. Noi ne abbiamo parlato con la dottoressa Simona Avitabile che spiega tra le altre cose perché è importante prevenire la sindrome metabolica. Innanzitutto dobbiamo dire che mancano più o meno ormai dieci giorni alla fine di questa campagna che è iniziata il 20 maggio e che finirà il 30 giugno. È importante dire che questa volta facciamo sì prevenzione ma invece che fare prevenzione su una patologia abbiamo deciso di parlare di una sindrome, ossia di una serie di eventi che messi insieme, di esami clinici che messi insieme possono far insorgere una patologia. Abbiamo deciso di parlare della sindrome metabolica perché aumenta il rischio di eventi cardiovascolari pericolosi e di diabete. Infatti la sua viene definita mediante tre dei cinque fattori cardiometabolico che la caratterizzano. Che cosa succede? Che tutti questi fattori messi insieme possono scatenare questa sindrome perché possono andare a modificare il metabolismo dei lipidi in quanto vanno ad abbassare l'HDL che è poi il colesterolo buono e aumentano i trigliceridi nel sangue. Questo può portare alla formazione di placche nelle arterie da parte del colesterolo cattivo con conseguenza che appunto le placche sono una delle cause maggiori di eventi cardiovascolari rischiosi. È per questo che diciamo diamo importanza a questa campagna proprio per evitare eventi cardiovascolari pericolosi come possono essere un ictus, un infarto, arteriosclerosi o un diabete che poi non è più controllabile. Diciamo innanzitutto che la sindrome metabolica non è una patologia appunto è una condizione che può essere totalmente o quasi totalmente curabile se scoperta in tempo. Anche per questo noi abbiamo pensato a questa campagna perché c'è un'incidenza della popolazione che è molto alta che è stato rilevato che l'incidenza aumenta con l'aumentare dell'età che addirittura tramite degli studi e dei dati raccolti in Italia dal 1998 sembrerebbe che il 23% degli uomini viene colpito e il 21% delle donne. Ma soprattutto è importante sottolineare come questa sindrome aumenti di circa dalle 2 alle 4 volte gli eventi cardiovascolari pericolosi e di circa il 30% il diabete. Abbiamo pensato a un check-up di esami proprio che specifici per questo tipo di prevenzione e che comprendono l'HDL che come ho detto prima è il colesterolo buono, il valore dei trigliceridi, la glicemia, l'insulinemia e l'indice OMA che non penso tutti conoscano è appunto un indice che indica l'insulino resistenza ossia quando le cellule del nostro organismo non riescono ad utilizzare tutta l'insulina prodotte dalle cellule del pancreas e questo succede perché c'è una carenza nel numero o nel funzionamento dei suoi recettori. Questa promozione è cominciata dal 20 maggio e durerà fino al 30 giugno. È importante sottolineare qualora ci fosse qualcuno che vuole soffrire di questo servizio l'importante è che venga qui da noi a Padula sicuramente a digiuno e si sottoponga a un semplice prelievo del sangue. Come sempre da lunedì al sabato noi siamo aperti qui facciamo prelievi dalle 7 e mezza alle 12 e 30. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo in regione Campania un programma organico a sostegno delle politiche del lavoro è stato presentato in regione Campania attenzione alle imprese ai giovani ai disoccupati agli over 50 ma vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Ieri mattina nel corso di una conferenza stampa il presidente della regione Campania De Luca ha illustrato il programma di politiche per il lavoro. Tale programma è suddiviso in tre capitoli, incentivi alle imprese, politiche di sostegno ai disoccupati o a quelli che perdono il lavoro e nuovi investimenti in grado di creare nuova occupazione. Come riporta la nota ufficiale di Palazzo Santa Lucia per quanto riguarda le imprese l'ente intende investire 500 milioni di euro per introdurre in Campania il credito di imposta che è suddiviso fra piccole, medie e grandi imprese. Una risorsa importante in grado di attrarre investimenti nuovi. La regione inoltre intende finanziare la fiscalizzazione degli oneri sociali. Ogni nuovo assunto in Campania per tre anni non comporta oneri sociali per l'impresa che assume questo con contributi della regione. Inoltre è stato deciso anche un contributo di 7 mila euro una tantum per ogni assunto a tempo indeterminato. Per i giovani disoccupati c'è il programma di garanzia giovani per quasi 200 milioni di euro, aiuti alla formazione nelle botteghe artigiane, un aiuto agli ultracinquantenni che perdono il lavoro per il loro ricollocamento nel ciclo produttivo. Infine un grande capitolo per un importo di un miliardo e mezzo di euro che riguarda i programmi che sono già in corso, investimenti concordati con il Ministero dell'Economia, accordi di programma a quadro che sono in atto, investimenti per la banda larga e complessivamente 3 miliardi e mezzo di euro per investimenti tesi a creare una nuova occupazione. Un programma di investimenti è dichiarato De Luca che sarà in grado di evitare una grave crisi sociale. Si sono concluse le riprese che hanno visto Roscigno Vecchia per alcune settimane protagonista del film Alburni, storie di migranti. Il film che sarà presto in uscita racconta le vicende di una famiglia degli Alburni che negli anni 50 fu costretta a lasciare il suo paese per emigrare. Questo film ripercorre anche quello che è un tema attuale come l'emigrazione e l'immigrazione con tantissime persone che giungono sulle nostre coste per chiedere asilio e le altre tante persone di cui in questi giorni si parla meno ma che dai nostri paesi sono costretti ad andare via in cerca di lavoro. Di questa esperienza vissuta a Roscigno che ha ospitato la troupe del film. Ne abbiamo parlato con il sindaco Pino Palmieri. Sono stati 20 giorni pieni di attivismo soprattutto da parte della troupe. Incontrai qualche tempo fa Enzo Agri, un regista napoletano e parlando con lui è venuta fuori questa idea di parlare dei nostri migranti. Abbiamo voluto dare il nome al film Alburni, storia di migranti, parla la storia degli anni 50 del nostro territorio. Forse è il modo anche per ricollegarsi all'attualità dove la subiamo la migrazione da parte dei paesi africani in Italia. Noi nel 50 abbiamo lasciato il nostro territorio, chi è andato in posti dell'Italia, chi è andato all'estero per dare un futuro ai propri figli. Il film racconta tutto ciò. Il comune si è fatto carico di patrocinare tutta l'attività e in cambio abbiamo stipulato un contratto dove il 20% degli incassi verrà destinato al comune di Roscigno per la riqualificazione di Roscigno Vecchio. Speriamo che vada bene. Il regista mi ha detto che voi qui avete una piccola cinecittà dove è tutto fermo e dove è uno scenario bellissimo per girare film di vario tipo, tra cui quella dei migranti. Io credo che bisogna puntare non sui contenitori ma sui contenuti. Roscigno Vecchio ha bisogno soprattutto di contenuti e questo film ha già dato un piccolo contenuto alla nostra realtà. Poter promuovere il territorio degli Alburni su questo profilo cinematografico credo che può essere una cosa molto interessante. Noi pensiamo che siamo conosciuti in tutto il mondo come territorio. Ognuno di noi crede che la propria terra sia conosciuta da tutti ma non è così, solo una piccola parte. Invece questa è una cosa che può essere veramente di livello e far fare il salto di qualità. Puntiamo ad andarlo a presentare al Columbo Sudeo a ottobre il film perché è un prodotto soprattutto per i nostri italiani all'estero e far rivivere quello che i loro nonni, i loro padri hanno vissuto negli anni 50. Torna puntuale e attesissimo il premio nazionale alle voci nuove della musica italiana Vito Curcio intitolato e dedicato proprio a Vito Curcio, prematuramente scomparso nel 2008, che nella sua vita ha mostrato sempre una grande passione per la musica. Per ricordarlo i suoi amici dell'associazione Amici Row Cavaliere ogni anno organizzano il festival che continua a riscuotere un grande successo e risulta sempre attesissimo. A Sanza il 2 agosto prossimo in piazza 24 maggio torna quindi con l'ottava edizione il premio nazionale alle voci nuove Vito Curcio promosso dalla BCC di Buonabitacolo la sera del 2 agosto. A Sanza la premiazione del concorso con l'assegnazione del premio da parte di una giuria tecnica al baritono Saverio San Giacomo del teatro Petruzzelli di Bari. La serata si concluderà con due concerti musicali, Driver Am Tribute e Musicology Tribute Band. E andiamo ora avanti, parliamo invece di cultura perché domani sera nuovo appuntamento presso la libreria Ex Libris Caffè di Polla di Michele Gentile dove sarà presentato l'ultimo libro di Isaia Sales dal titolo Storie dell'Italia mafiosa. Continuano gli appuntamenti culturali presso la libreria Ex Libris Caffè di Polla di Michele Gentile. Domani sera alle 19 si terrà la presentazione del libro Storie dell'Italia mafiosa, il libro scritto da Isaia Sales. Nel corso della presentazione del libro moderata dalla conduttice radiofonica Valentina Risi ci saranno anche alcune letture affidate ad Elisa Panza dei amici della biblioteca di Palomonte. Alla presentazione del libro sarà presente anche l'autore. Isaia Sales è un saggista e politico salernitano nato a Pagani nel 1950, laureato in filosofia, ha collaborato con l'unità, ha fatto parte del partito comunista italiano prima e poi dei democratici di sinistra poi segnalandosi come uno dei dirigenti più impegnati nella lotta alla camorra. Proprio la lotta alla camorra ha dedicato il suo primo libro La camorra, le camorre del 1988. Eletto deputato nel 1993 è stato sottosegretario al ministero del tesoro e bilancio e programmazione economica durante il primo governo Prodi. Diversi i libri scritti, il Sud è al tempo dell'Euro nel 1999, le strade della violenza nel 2006, malviventi a bande di camorra a Napoli. Nel 2010 ha pubblicato I preti e i mafiosi, storia di rapporti tra mafie e Chiesa Cattolica. Attualmente insegna storie della criminalità organizzata nel Mezzogiorno d'Italia presso l'Università Solossola ben in casa di Napoli. Isaia Sales nel 2010 per l'opera I preti e i mafiosi ha ricevuto il premio feudo di Maida. Domani pomeriggio la presentazione del suo ultimo lavoro storia dell'Italia mafiosa. La mafia vanno valutate all'interno della storia nazionale, all'interno della formazione dello Stato nazionale, all'interno degli eventi e delle scelte della politica nazionale. E' questo in sintesi il risultato dell'analisi attenta e lucida di Isaia Sales riportata nel suo ultimo libro che sarà presentato domani sera presso la libreria Ex Libris Cafè di Polla. Parliamo ora di teatro si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la stagione dei corsi teatrali realizzati dall'Istituto Arti Sceniche Vallo di Diano, location dell'ultimo spettacolo dal titolo L'amore e di altre follie, l'incantevole giardino del palazzo bambino nel centro storico di Sassano, scroscianti applausi per la performance degli attori e tanta soddisfazione da parte dell'attrice Eva Immediato, direttrice dell'Istituto in questa stagione. Ascoltiamola ai microfoni di Pietro Cusati. E' una performance di fine anno accademico e il titolo è Dell'amore e di altre follie. Abbiamo scelto questo titolo particolare perché raccontiamo varie forme di amore, un amore a volte anche un po' folle, un amore che non si riesce a trovare, un amore che si rincorre, un amore che vive, poi sembra allontanarsi ma ritorna perché c'è una frase a un certo punto che è di uno degli autori a cui ci siamo ispirati, Antonio De Rosa, che dice il mondo è il curvo e quindi tutto ciò che si perde ritorna. E in fondo è questo che vogliamo raccontare, anche l'idea della bellezza e quindi anche ciò che sembra impossibile da poter prendere, da poter avere, in fondo se lo si insegue con grande energia, con passione, con desiderio si riesce ad ottenere. Ci tengo a dire che i testi di questa performance sono di diversi autori ma soprattutto ispirati a diversi autori perché in realtà gli allievi della scuola li hanno rielaborati e alcuni li hanno scritti proprio di sana pianta loro su un tema dato, proprio perché l'Istituto d'Artisceniche si pone questo obiettivo, l'arte a 360 gradi e quindi anche la scrittura teatrale perché i tempi teatrali poi sono diversi dai tempi della scrittura che resta sul libro e quindi ha bisogno anche di altro. Annalisa Avelianto, che ruolo hai nella performance di questa sera? Io sono una specie di narratrice, quindi il mio compito questa sera è quello di narrare quello che accade intorno a me. Ed è bello anche questo innesto con i giovani? Assolutamente sì, loro sono la forza del gruppo perché il grosso del gruppo sono di un'età molto molto giovane, quindi io e Cono, che siamo i veterani insieme a Rosetta, siamo i loro diciamo tutto, se ci possiamo permettere di dire questo con la superguida di Eva immediato. Termina qui il nostro Tg, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.